Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial e ragazzi in questo nuovo video vi spiego come formattare da zero Windows 11 ovviamente ci sono varie opzioni per formattare il nostro sistema operativo o rimuovere tutto quindi formattare da zero il computer quindi cancellare qualsiasi cosa che tu hai installato sul tuo pc oppure rimuovere solamente applicazioni però mantieni i tuoi file quindi se hai un pc e vuoi formattarlo quindi queste cose sul pc non ti servono quindi vuoi farlo pulito pulito e quindi vuoi formattarlo da zero andiamo direttamente sull'icona qui il logo di Windows vai su sistema ti porterà su queste impostazioni clicca due volte su sistema scendi fino a giù fino a trovare il ripristino ovviamente è una guida molto semplice non ci vuole niente poi una volta fatto devi aspettare un paio di minuti forse una mezz'oretta che formatti tutto il sistema quindi ripristina le impostazioni di fabbrica del pc ripristina il pc ovviamente come puoi vedere ci sono mantieni i miei file rimuovi tutto quindi rimuovere tutti i file personali e le app e le impostazioni quindi io ci clicco sopra download da cloud o scarica e reinstalla Windows oppure reinstalla Windows da questo dispositivo quindi se tu hai scaricato e installato il tuo sistema operativo qua sopra hai ancora un piccolo setup che sta dentro al tuo pc quindi se tu vai in installazione locale te lo reinstalla di nuovo da capo quindi reinstalla Windows da questo dispositivo come puoi vedere impostazioni correnti rimuovi app e file non pulire l'unità quindi rimuove solamente app e file che tu hai scaricato però non pulirà quindi non pulisce l'unità elimina tutti i file solo dall'unità di Windows reinstalla Windows da questo dispositivo e cambia impostazioni scegli le impostazioni pulire i dati rimuovi solo i file personali questa opzione è più veloce ma meno sicura ovviamente qui c'è scritto elimina tutti i file solo dall'unità di Windows che sarebbe questa questo pc eccolo qua ti rimuove tutto quello che hai su questo dispositivo quindi elimina tutti i file solo dall'unità di Windows che sarebbe questo disco locale C con il logo di Windows sopra reinstalla Windows da questo dispositivo quindi tu devi scegliere uno di questi tre faccio annulla faccio di nuovo ripristina il pc mantieni i miei file reinstallazione locale reinstalla Windows da questo dispositivo ripristina le app e le impostazioni disponibili con questo personal computer quindi se tu hai fatto delle modifiche alle impostazioni di Windows te le ripristina proprio dal punto zero come se tu non le hai mai toccate cambia impostazioni reinstalla Windows quindi scarica Windows ripristina le app e le impostazioni fornite insieme a questo pc ovviamente se tu clicchi su suggerimenti per la scelta qui ti può suggerire cosa puoi reinstallare disinstallare, rimuovere e formattare però c'è anche un'altra opzione per reinstallare da capo Windows 11 quindi fare direttamente download di Windows assistente per l'installazione di Windows creazione di support e installazione di Windows 11 quindi vai a scaricare così facendo te lo mette su una chiavetta usb o dvd se ce l'hai oppure download dell'immagine del disco iso che devi mettere su una chiavetta usb o un dvd quindi una volta messo così l'immagine iso sulla tua chiavetta usb spegni il pc inserisci così la chiavetta e accendi così il pc assieme alla chiavetta con il file iso sopra e inizierà così la procedura di reinstallare da capo Windows 11 e formattarlo quindi se non vuoi fare tutto questo c'è sempre l'opzione facile di questa qua reinstalla Windows da questo dispositivo eliminando qualsiasi cosa su pc quindi ripristina il pc quindi se io non lo voglio più non voglio più i file qua sopra è un disordine ci sono minacce ci sono file che sono dannosi quindi devo formattare il mio computer rimuovi veramente tutto rimuovi tutto vai avanti scegli cosa vuoi eliminare e lo formatti e aspetti una mezz'oretta e ti ripristina proprio da capo il computer quindi per altri problemi commenta sotto al video se questo video è stato utilissimo su come ripristinare il pc da zero e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao